Confindustria Foggia chiude il 2023 guardando al futuro e puntando alla formazione. Proprio in occasione del bilancio di fine anno in casa Confindustria viene presentato un accordo rilevante strategico per tutto il territorio di Capitanata e soprattutto per i giovani di questa terra che continuano ad espatriare un accordo nella direzione dell'agroalimentare. Un accordo firmato con l'Utec che è un driver nazionale ma che conta ben 4.500 dipendenti che poi prenderà questi formati e li porterà presso una location che è nostra che Confindustria Foggia ha in via Matteotti e quindi avremo come dire in seno a Confindustria questa azienda con questo personale formato che sarà a disposizione per le aziende dell'agroalimentare che si vogliono innovare. In via Valentini Vista Franchi dunque tengono a precisare che non hanno nessuna intenzione di sostituirsi alla politica ma provano a giocare una carta importante per tutta la provincia che ora deve rialzarsi andando a cancellare quei segni in negativo e trasformarli in positivi punteggi per un territorio che deve rinascere e la strada non può essere che la formazione specifica che arriva proprio grazie all'accordo appena siglato. Noi non ci sostituiamo alla politica offrendo eventualmente speranze che poi diventano vane noi diciamo ai giovani vi offriamo la possibilità di una importante formazione e di una possibilità di lavoro reale quindi inseritevi e quindi non c'è bisogno che voi pensiate di andare fuori Foggia Foggia può diventare un punto di attrattivo. Non solo agroalimentare dunque, nell'agenda di Confindustria Foggia ci sono anche altri settori strategici sui quali puntare per avviare nuove strategie di sviluppo e in cima alle priorità due programmazioni di rilevante importanza. Energia, innovazione tecnologica e sicuramente ipotizziamo che portare dei progetti di partenariato pubblico privato saranno fondamentali. Uno tra questi, anzi due tra questi, la CER e anche il 5G. Un anno dunque che si chiude con i migliori auspici e soprattutto con progetti ben chiari da realizzare è un unico obiettivo da raggiungere, riportare la Capitanata nelle posizioni che merita.